Un volo a gravità zero per addestrare gli spazzini spaziali e testare le nuove tecnologie made in Italy per ripulire lo spazio dalle circa 7.000 tonnellate di detriti divenuti pericolosi per le attività orbitali. Protagonisti dell'esperimento i giovani ricercatori del team Politators del Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, guidato dalla professoressa Michelle Lavagna che ha partecipato a un volo parabolico del programma Fly Your Thesis dell'Agenzia Spaziale Europea con il progetto SATLISH, un vero e proprio satellite cacciatore. Che cos'è? Ce lo ha spiegato il team leader Riccardo Benvenuto. Una volta in orbita questo satellite cacciatore sparerà questa rete contro il debri, il cosiddetto debri che è l'oggetto spaziale. Questa rete si chiuderà intorno a questo target e poi il cavo che connette la rete al satellite cacciatore permetterà di trainare verso un'altra orbita il detrito per farlo poi bruciare in atmosfera. In una prima fase è stata testata la rete, ora invece è stato provato il cavo. Bisogna fare in modo infatti che durante il traino non si aggrovigli o si rompa o peggio ancora che i due oggetti non collidano. Per questo è necessario testarlo in un ambiente simile allo spazio reale, ricreato appunto con i voli parabolici a 0G. Vogliamo modulare la spinta del satellite attivo in modo tale da ridurre le vibrazioni nel cavo e trasportare il detrito con la stessa accelerazione senza quindi problemi di sicurezza poi per il trasporto spaziale. Il Politecnico di Milano è un'espressione di eccellenza italiana nel settore aerospaziale mondiale. Da qui sono partiti esperimenti che hanno raggiunto i confini dello spazio come la trivella della sonda Rosetta messa a punto proprio in questi laboratori. L'obiettivo del programma Satellis è mettere a punto un sistema di spazzini spaziali che possa andare nel 2022 a recuperare la sonda europea Envisat da 8 tonnellate alla deriva da circa 10 anni e che rischia di diventare pericolosa in caso di caduta incontrollata sulla Terra.